Giornata mondiale dell'ambiente, intanto centinaia di morti premature ogni giorno in Italia per l'inquinamento. Ieri a Torino alla vigilia della giornata stessa è stato firmato un protocollo per l'aria pulita per cercare di rispondere all'emergenza. Sentiamo Matteo Parlato. Sei ministeri coinvolti e 400 milioni di finanziamento con sei mesi di tempo per individuare le misure da finanziare. Questo in estrema sintesi il protocollo aria pulita firmata a Torino. Un'iniziativa che segue il Clean Air Policy Package, un pacchetto di misure per la qualità dell'aria adottato dalla Commissione Europea il 18 dicembre 2013 per migliorare la legislazione esistente e ridurre le emissioni dall'industria, dal traffico, dagli impianti di produzione di energia e dall'agricoltura. L'Italia ha già subito due procedure di infrazione sulla qualità dell'aria nel 2014 e nel 2015 per il superamento dei livelli di biossido di azoto e di particolato. Secondo la Commissione Europea per l'Ambiente, nel continente muoiono 400 mila persone l'anno per l'inquinamento e in Italia, aggiunto il ministro Costa, ci sono 80 mila morti premature all'anno per inquinamento atmosferico. Il protocollo ha una durata di due anni con cinque ambiti di intervento, come riduzione ai sussidi per i carburanti fossili, l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca in agricoltura, fino all'uscita dell'Italia dal carbone nel 2025. Nella giornata mondiale per l'ambiente è stata annunciata l'avvio di una campagna dal nome Giudizio Universale con associazioni e cittadini che porterà al deposito in autunno di una causa contro lo Stato italiano per le scarse politiche climatiche adottate.